Antonio Cascone, playmaker classe 2006 della Bioverde Pollacanestro Antoniana, tuo già secondo anno tra i senior, che impressione ti sta dando questa squadra quasi al termine del girono d'andata? Sicuramente è una squadra molto giovane, sono comunque ragazzi più grandi di me, però mi sto trovando molto bene, sono tutti ragazzi disponibili, simpatici, a cui piace cosa, a cui piace giocare, e sicuramente il salto di qualità in categoria aspetta uno spesso si è sentito, e io credo che, anche se abbiamo iniziato un po', siamo macchinosi, ci potremmo dare belle soddisfazioni, perché siamo un bel giro, stiamo affiandando sempre di più, ogni partita di più. Domani c'è una partita molto importante in quel di Piedimonte-Matese, una vittoria non matematicamente, ma quasi potrebbe valere la qualificazione alle Final Four di Coppa Campania. è un obiettivo della società, come è arrivata a questa partita? Siamo molto carichi, siamo molto concentrati in questa partita, sappiamo che è una passata molto ostica, una aspetta molto lunga, una squadra che sta rendendo un po' anche sotto le aspettative, però è stata costruita per arrivare in alto, nelle parti alte della classifica, quindi, insomma, una squadra soprattutto di se si accende, l'uno contro l'uno può darci l'issima. Certo, facciamo un appello importante ai tifosi per la partita di domani, chi ci seguirà fino a Piedimonte-Matese in generale per questo proseguo di campionato? Sì, già in questi partiti ci stanno dando un gran supporto, sicuramente domani sono sicuro che ci seguiranno, che ci daranno connessione. Grazie Antonio, in bocca al lupo. Grazie a Campania.